ecco i calci di rigore si appresta a tirare michele un cucchiaio vediamo se riesce a fare il cucchiaio adesso vediamo teidi mata si accince a battere il calcio di rigore con la freddezza vediamo adesso si appresta nicola perrucci ecco 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 la volpe che ci viene a spiare scommetto la guarda giovanni a giovanni giovanni guarda ecco la volpe ci viene a spiare si si bello ecco la volpe che riparte la volpe ecco guarda sta facendo la collina pure la volpe e la volpe viene a vedere i miglioramenti è vera e dopo va a riferire è della virtus con la volpe è della virtus no della virtus è della 1920 ecco michele si è messo il cappelluccio ecco si appresta michele col suo cucchiaio ma mi che comincia a correre quello più brutto mi vuole regalare questa è una bella serie proprio ecco il nostro teidi un cucchiaio ma ti stai ripresentato ancora dopo quello schifo che hai fatto beh eh mo ci ha riprovato ultimo rigore nicola si accende si accisce traversa ecco ecco si accince Matteo ecco il nostro Matteo tutto imbangato Michele con Carpelluccio mi sembra un Puffi adesso si accinge Matteo a battere il calcio di rigore teidi in porta vediamo beh Michele come li fai da un attacchi su? come vuoi Mavata sei attaccato su tu casa tu ti mandi il video di cosa faccio vedere qua mi sento a fare la dolcia dai dai Michele mo diz Grazie.